Le procedure adottate dal Comune di Brolo per approvare il bilancio riequilibrato lo scorso febbraio erano corrette. Lo ha stabilito il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla Cassa Depositi e Prestiti contro il Comune Brolese per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale, che approvava l'atto predisposto dall'amministrazione ed approvato il 16 febbraio scorso. Nel ricorso presentato, la Cassa Depositi e Prestiti chiedeva di annullare l'atto consigliare in quanto lo stesso non comprendeva il credito vantato dall'ente, circa 5 milioni di euro, sorte in seguito alla risoluzione di numerosi contratti di mutuo, i cosiddetti mutui di fantasma, ma ne attribuiva la competenza all'organo straordinario di liquidazione in ordine alla restituzione delle somme. Il Comune di Brolo, difeso dall'avvocato Fulvio Cintioli, ha presentato numerose memorie difensive, eccependo altresì l'inammissibilità del ricorso, tesi questa riconosciuta dal TAR Catanese. Di fatto quindi, le somme richieste dalla Cassa Depositi e Prestiti dovranno essere inserite nella massa passiva debitoria e saranno trattate per la restituzione dall'organo straordinario di liquidazione e quindi non graveranno nella gestione ordinaria dell'amministrazione comunale. Un passaggio importante perché consente nell'imminenza un po' di respiro al Comune.